Amo l'Italia ma basta. Se non vorremmo essere ricordati per la generazione che ha saputo solo distruggere, che non ha saputo riconsegnare questo paese alle generazioni future, è ora di cambiare marcia. È ora che tutti, governo, imprese e lavoratori, capiscano che siamo nella stessa barca. Ed è una barca che sta affondando. E io sono convinto che la ripresa passa dall'impresa.